rispondere a questa domanda significa fare una figura da deficiente fra qualche anno perché tutto diventa, non avrei mai detto niente di quello che è accaduto chiunque abbia la mia età ha fatto in tempo a lavorare in modo del tutto naturale senza i telefonini per esempio solo sino agli anni 90 o non avevamo il fax, cioè figurati credo che sia veramente in questo senso una sorpresa molto difficile immaginare quello che ci riserva al futuro però grazie alla tecnologia abbiamo riacquistato fiducia nel futuro se è vero che abbiamo incertezza rispetto al futuro che ci aspetta rispetto alle relazioni fra le persone o alla violenza che è tornata prepotentemente nel mondo alla paura, nella tecnologia continuiamo a nutrire fiducia invece secondo me questo è comunque un segno molto interessante perché la tecnologia di oggi cioè quella che è evanescente, quella che non è fisica quella che è appunto quella della comunicazione per lo più è una tecnologia che di per sé è un vettore enorme di libertà perché non la si può fermare insomma e questo secondo me è un segno di fiducia che anche ai più pigri come me costituisce per i più pigri come me un invito a leggere libretti di istruzioni insomma conviene avvalersene insomma conviene avvalerci il nostro corso di giro